Esistono ulteriori misure di prevenzione che, se prese in considerazione, potrebbero contribuire a fermare il doping, ad esempio estendere la responsabilità per il doping nello sport non solo agli atleti ma anche a coloro che detengono potere e autorità sugli atleti cambiare gli incentivi alla vittoria per doping rendere lo sport sostenibile nel lungo periodo e scogitando modi per fornire agli atleti un reddito costante che non sia legato ai record o alle sponsorizzazioni integrare le misure di prevenzione nei programmi scolastici in una fase precoce e con una connotazione positiva eventualmente anche attraverso progetti interdisciplinari per considerare meglio gli interessi dei giovani in modo da creare un'atmosfera costruttiva ampliare la prospettiva degli atleti puliti e del loro empowerment Grazie 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 Grazie